San Paolo Giusti, San Paolo Giusti, San Paolo Giusti, ciao Paolo, ciao Marco, ciao Marco, ciao Marco, ti vanno whatsapp, ti vanno whatsapp No non me li mandai tanto non ti rispondo mai, ti vanno whatsapp e poi ti richiamo No, no e poi smettila di continuare a chiedermi vuoi far serate, non ne faccio Allora, 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 allora ripeto, allora, il video, il video Sì, lo facciamo il video Paolo, il video per Capodanno Allora, allora, la situazione è questa, Pazzoli, il 28, il 28 fai Siena, fai Siena, 29 fai Siena ancora, ma con i baffi Il 30, il 30, BINCIA MEEE No, aspetta un attimo Non mi fa robicare, ho preso l'avvocato Senti Paolo Ripeto, 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 ripeto Basta, basta Stavo pensando se vuoi andare a Capodanno e ti facciamo il 31, il 31 vai all'Isola d'Elba? Sì No Il 32 vai a più Non c'è il 32 Paolo Ripeto, ah no, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene Sì, hai capito che va bene Paolo Il problema è che Giusti ha avuto un piccolo disguido con DJ Spine Spine, 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 Spine Spine, Spine Sì, sì Non rimanchiamo sempre bisogno Ho messo l'avvocato, ho messo l'avvocato, ho messo l'avvocato Spine, allora, Paolo, Giusti, hai avuto un po' di disguidi con Spine e con Marco Dona, no? E quel giorno lì ti senti Marco Dona Marco Dona, Marco Dona, bravo Marco Dona Adesso abbiamo un po' di serate Spine, cioè Spine Sì, che hai detto? Spine Adesso lo risolviamo perché lui non mi piace che mi ha minacciato Ma l'ho capito, ma se tu ogni volta gridi picchiami, prima o poi questo ti mena perché è cattivo, cioè uno che mena di brutto Spine Comunque me l'ha risolto, adesso tutto a posto No, sei amico di Spine Sì, senti, scusa Sì, scusa, c'è il problema Wender che non prende l'aereo Allora, Wender è un figlio di puttana No, non è bravo Però voglio lo dire No, glielo hai appena detto Ti sento, eh, ti sento Sono qua, ciao Paolo Sei bravo Wender? Sì, grazie Però in Sardegna non mi chiudere le date, non volo io Sardegna abbiamo l'esclusiva per tutto il mese di novembre Ma non vuole andare Un po' vuote le piazze Eh sì, fa anche freddo Un po' freddino, ecco, sì, sì Non è meglio l'esclusiva agosto, no? Sì, sì Ti ripeto, io per Capodanno non lavoro, cioè proprio non mi interessa Allora, Mazzuoli, ti faccio prendere il volo da... dove sei tu? A Miami Adesso sono a Taranto Ah, e metto i terroni No, no Non ci sono negri, non ce n'è Sai che a Taranto non c'è un uomo di colore, è una roba pazzesca No, negri, terroni, dai No, no, no Non è la stessa cosa, ma comunque non cambia niente Sì, dai, negri, terroni, dai, uguale Sì, ma non è il modo Allora, allora, ti mando un WhatsApp Sì Sì, e che scambio è, scusate Sentitevi, ormai ditemelo al telefono, no? È un video Allora, Alisa e tu la fai una serata a Capodanno? Sì, no, no, a Capodanno io lavoro, sto con i bambini Però scriviamo lo stesso sui manifesti che ci sono Eh, ma poi non ti lamentare Allora, sì, però perché ho una data interessante per te Dove? A Catania Ah, beh, è la Catania Però devi andare a piedi perché non c'è budget È un po' scomodo, lo so Sì, è un po' lunga Aspetta che è arrivato Spani, è arrivato Spani 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 Io ho scomodo a piedi, lo so, a Catania Sì, no Un po' lunga, un po' lunga Vuoi andare con Wender Wender che adesso Adesso Dove va Wender? Wender non prende l'aereo Allora, Wender, mi hai chiesto una serata in Puglia per te Ma in treno sì, eh Allora, ti faccio portare in braccio da un... No Ti faccio portare in braccio dal China Eh, dal China, sì, ho capito Già guida male la macchina allora il China parte da Vicenza parcheggio a Milano ti prende in braccio e ti porta in pubblico giusti ma una serantina anche per mini cazzo non ce l'hai e ha voglia? sì no cosa? no la serata per squalo me lo chiedo a uno squalo senti ma chi ne pensi di un capodanno squalo e spine il video il video il video il video il video il video 1-0-5-6